Vi sarà capitato almeno una volta nella vita di partecipare a un incontro completamente ingiusto, che sia uno sport reale oppure un e-sport online, per esempio a Fortnite, nonostante il matchmaking sia migliorato a volte si possono trovare persone cento volte più forti. Ma giustamente molti come me tengono il dizionario dei santi per riuscire a dirli in ordine alfabetico durante lo sclero, ma questa è un'altra storia da gaming. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica di incontri ingiusti dove atleti abbastanza svantaggiati hanno dovuto fare conti con persone più fortunate e, in quel caso, beh, mi direte voi. Vi ricordo come sempre prima di fare un saltino sul canale Telegram di sconti ufficiale per tanti sconti ogni giorno da Amazon e altri siti e partiamo seduraiati. Numero 1 Kyle Maynard è un oratore, autore e atleta di arti marziali miste, specialmente la parte dell'oratore molto importante da capire. Quest'uomo potrebbe riuscire a motivare chiunque a dare del proprio meglio ogni giorno. Lui pensa che se può farcela senza braccia e gambe, perché quelli con braccia e gambe non dovrebbero riuscire a compiere qualcosa? Partiamo un attimo dall'inizio prima di arrivare all'incontro fatidico. Attualmente ha 34 anni ed è nato negli Stati Uniti con una rara malattia chiamata amputazione congenita. In poche parole è nato senza arti. Niente braccia, niente gambe. Un qualcosa che potrebbe rattristare chiunque e deprimere. Quelli che subiscono questa cosa di solito sono costretti a farsi aiutare per tutta la vita da qualcuno. Ma Kyle ha deciso un giorno che non avrebbe voluto avere lo stesso trattamento. Non che ci sia qualcosa di male, ma perché è determinato a dimostrare che con la forza di volontà tutto è possibile. Bisogna cercare di utilizzare i propri doni e non pensare solo alle mancanze. Proprio per questo è diventato famoso nel mondo e si è distinto moltissimo. Adora gli sport. Sin da piccolo non gliene importava niente di tutto il resto, aveva obiettivi ben precisi in testa. Ha cominciato dal football americano per poi passare al wrestling. Quello scolastico alle superiori, dove sentite bene, ha vinto ben 36 incontri. Ma non gli bastava. Crescendo ha voluto fare sempre di più. Andando quindi verso la palestra e così scoprendo il mondo del sollevamento pesi. Partecipando a varie gare, vincendo nel 2004 la medaglia come teenager più forte del mondo con 23 colpi su panca piana con un peso da 108 chili. Per questo era apparso anche in varie riviste famose come copertina, tipo Vanity Fair o Abercrombie & Fitch. Dai successi è riuscito ad aprire la sua palestra, il No Excuses CrossFit Gym nel 2008. Assurdo davvero quanta motivazione avesse ancora. Il traguardo più grande mai raggiunto però è stata la scalata al chili mangiaro senza protesi, diventando il primo uomo in assoluto senza arti a riuscirci. Prima ancora di aprire la palestra aveva un altro sogno che teneva nascosto in un cassetto ma che finalmente aveva avuto il coraggio di dire. Entrare nel mondo delle arti marziali miste, che come sappiamo è molto duro e crudo. Eppure a Kyle non importava niente. Non esisteva limite nella sua mente, si è allenato e fatto piccoli incontri di sparring fino ad aprile 2009, dove era riuscito ad avere un incontro ufficiale. Secondo l'allenatore non era male, ma aveva dei limiti ovvi che poteva superare solo utilizzando bene il suo ingegno. Ma comunque non c'è stato molto da fare. Il suo avversario si era rivelato più forte del previsto, anzi Kyle gli aveva chiesto di non trattenersi minimamente. È stata una piccola umiliazione per l'uomo che però non ha ceduto. Anzi, ha avuto la motivazione giusta per continuare ad allenarsi e un giorno affrontare qualcosa di ancora più grande. E quel qualcosa è stato il chili mangiaro nel 2011. Numero 2 Immanuel Yarbrough, nato nel 1964 e morto nel 2015, era un lottatore molto ma molto riconosciuto. Non soltanto per i vari sport a cui si era dedicato, ma anche per aver vinto il Guinness World Record come atleta più pesante del mondo. Ricordatevi che per fare uno sport di un paese in particolare non bisogna per forza farne parte ed essere cittadino. Ognuno di noi può dedicarsi a qualunque cosa. Basta un bel po' di sano allenamento e voglia di fare. E ovviamente di essere pronti a perdere. Immanuel era il lottatore di sumo occidentale più forte e riconosciuto. E di origine americana, infatti. Non era contentissimo di ciò che era in realtà. In un'intervista aveva detto di essere prigioniero del suo stesso corpo e della sua dipendenza dal cibo. È morto proprio a causa di ciò. A 14 anni pesava 145 chili. E aveva raggiunto in età adulta la stratosferica cifra di 360 e passa. Ma piuttosto che continuare a deprimersi ha deciso di fare vari sport. Partendo dal wrestling scolastico, poi sumo e poi arti marziali miste. Dove ha disputato un incontro davvero molto molto sbilanciato perché non esisteva una persona con il suo peso. Uno dei pochi coraggiosi che ha avuto la forza di sfidarlo è stato Tatsuo Nakano di origini giapponesi. L'unica cosa è che è durato meno di due minuti. Con la vittoria schiacciante dell'atleta gigante. Ma non sempre le cose li sono andate bene. Nel suo terzo incontro ufficiale stavolta Emmanuel ha fatto un passo falso. Perdendo contro un altro combattente giapponese di nome Daiju Takase. Che era più magro e piccolo di Tatsuo. Eppure ha saputo combattere e vincere. Piccola pausa quiz. Chi sa dirmi chi è il giocatore di calcio più pagato del mondo? Risposta forse a fine video e andiamo avanti. Numero 3 Una delle caratteristiche principali per diventare giocatori di basket è l'altezza. Motivo per la quale è uno sport per persone molto alte. Anche se ci sono sempre le eccezioni di cui però non parleremo oggi. Parleremo invece di giocatori ancora più bassi della media. Precisamente di persone che soffrono di inanismo come Jamani Swamson. Lui ha sempre avuto la passione per il basket e si è allenato ogni giorno per riuscire a entrare tra i migliori. Ed è riuscito dopo alcuni anni a far parte degli Harlem Globetrotters. Prima era nella divisione delle persone con il suo stesso problema. Poi però vedendo nelle capacità hanno deciso di prenderlo in squadra tra quegli alti. E già nei suoi primi incontri ha dimostrato di essere molto capace, ma non sempre al massimo. Perché era limitato in molte cose come per esempio i placcaggi oppure nel bloccare le schiacciate avversarie. Una cosa che fa a volte è prendere in giro gli avversari con il suo problema. Numero 4 Rimanendo sempre in tema basket, nel 2019 aveva cominciato a girare in rete una foto molto particolare, dove venivano mostrate le ragazze under 16 degli Stati Uniti con quelle sempre under 16 di El Salvador. Diventata subito virale era anche oggetto di varie teorie. Alcuni pensavano che la differenza di altezza avrebbe portato alla rovina le giocatrici di El Salvador. Altri invece credevano comunque in una loro vittoria, pensando in modo molto ottimistico. O che avrebbero visto una grande sfida tra le due. Eppure le cose sono andate a finire malissimo. Le ragazze degli Stati Uniti hanno stracciato completamente le loro rivali più basse, con un 114 a 19. Quindi la differenza fisica è stata fondamentale. Oltre forse a una differenza di capacità tecniche. Comunque sì, alla fine si sono abbracciate tutte e fatte una foto di gruppo per dimostrare che era solo una partita e che nello sport non ci devono essere rivalità distruttive, bensì costruttive per invogliare a migliorare. Numero 5 Abbiamo quindi visto molti incontri svantaggiosi e vari sport. Sappiate che anche nel calcio succedono spesso cose del genere. Ma finché si perde con numeri bassi tipo 5 a 1 oppure 10 a 2 o comunque qualcosa che non superi appunto i 10, va bene. Vuol dire solo che si può migliorare. Nonostante la partita non fosse stata bilanciata per almeno una delle due squadre, le cose in futuro possono cambiare. Il problema è quando la cifra supera i 30 gol di vantaggio. Come nel famosissimo incontro tra Australia e Samoa, è entrato nel Guinness World Record. Match valido per le qualificazioni ai mondiali 2002. Le isole Samoa americane erano infatti ultime nel ranking FIFA, però nessuno si aspettava una cosa del genere. Ben 32 a 0 per gli australiani. Ma per fortuna c'era stato un piccolo errore di conteggio da parte dell'arbitro. Un gol non era valido, quindi in realtà era un 31 a 0. Ok, non cambia moltissimo. Il problema principale era la mancanza di capacità dei giocatori. Infatti gli under 21 della squadra principale mancavano per via degli esami scolastici. E quindi l'allenatore ha deciso di schierare dei ragazzi di soli 15 anni. Contro una squadra che era arrivata da una vittoria per 22 a 0 contro il Tonga. E che così era tantissimo motivata. Numero 6 Lo sport nazionale giapponese sembra sia il sumo ed è davvero particolare. Perché il concetto di corpo atletico in questo caso è molto molto diverso. Parliamo di persone che mangiano un sacco, ma davvero un sacco, come dieta giornaliera. Non a caso, ma comunque tantissimo per riuscire a raggiungere il livello dei professionisti. Eppure ci sono delle eccezioni alla regola. Come Takanoyama Shuntaro. Un lottatore della Repubblica Ceca di soli 90 kg. Il primo in assoluto di quel paese a entrare nelle lotte pro. Il suo vero nome è Pavel Bojar e sin da piccolo è stato uno degli sport che l'ha attirato di più. La sua tattica è molto semplice. Non poteva contrastare in peso i suoi avversari. Per questo preferiva fare in modo che andassero fuori da soli. Eppure non sempre funzionava una cosa del genere. Come in un incontro molto molto svantaggioso per lui contro Gagamaru Masaru. Lottatore di 200 kg che l'ha buttato fuori come niente. Numero 7 Rey Mysterio dovrebbe ormai essere un volto molto molto noto. Io anni fa ero un suo fan. Per come nonostante le sue misure tenesse testa anche ai più grossi con tecniche da capogiro. E questo era ciò che doveva fare secondo molti contro Great Khali. In un incontro particolare sul ring di SmackDown se l'è dovuta vedere appunto con il gigante da più di due metri. E il povero Rey in quel caso era solo un metro e sessanta. Tutti si aspettavano un incontro almeno decente. Ma la vittoria schiacciante di Great Khali sembrava anche più schiacciante dal vivo. Rey Mysterio non aveva avuto la minima speranza. Eppure è sempre stato e ancora oggi un tipo tosto che affronta i più grossi. Senza alcuna paura. Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un bel like per supportarmi e magari iscrivervi attivando la campanellina delle notifiche. Noi ci sentiamo alla prossima gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.